E così oggi, 3 febbraio 2021, Mattarella ha dato ufficialmente l'incarico a Mario Draghi di formare un nuovo governo e Draghi l'ha accettato con riserva. Significa che prima andrà a consultare le parti politiche per vedere se effettivamente c'è una maggioranza all'interno del Parlamento a favore di Mario Draghi e poi andrà a formare il proprio governo. In queste ore mi sono chiesto se fare proprio oggi un video su Mario Draghi e sul suo governo e che taglio dargli. In realtà non c'è alcuna certezza che il governo di Mario Draghi arriverà in Parlamento a fare le proprie leggi e quindi ho deciso di posticipare eventuali discussioni sul governo Draghi in un futuro, quando effettivamente ci sarà la certezza che questa possibilità possa avvenire. E quindi oggi ho deciso di dare parola a Mario Draghi, prendendo due interventi su due temi estremamente importanti e anche attuali. Il primo parla di decisioni, le caratteristiche di una buona decisione e come il policymaker debba seguire queste caratteristiche per, per l'appunto, prendere delle buone decisioni per i cittadini. Il secondo intervento, vi lascio ovviamente tutti in descrizione, riguarda il tema della sovranità di uno Stato. Vedremo cosa ne pensa Mario Draghi della sovranità di uno Stato nel contesto della globalizzazione del mondo. Io ovviamente per brevità e per non annoiarvi prenderò degli estratti, però se volete approfondire questi discorsi molto lunghi e altrettanto interessanti, vi lascio come al solito le fonti in descrizione. A te, Mario, e buon ascolto a voi. Vorrei oggi condividere con voi quelle che mi pagliano caratteristiche frequenti nelle decisioni che consideriamo buone. La conoscenza, il coraggio, l'umiltà. Naturalmente la loro presenza non garantisce che si prenda sempre la decisione giusta. I policymaker spesso decidono in condizioni di incertezza, in cui i risultati raramente sono conosciuti e valutabili con sicurezza. Quasi tutti i problemi sono estremamente complessi. La realtà è personatura complessa e ambigua, notava qualche anno fa l'ex segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Robert Rubin. La prima caratteristica di una buona decisione è la conoscenza. L'incertezza in cui operano i policymaker è dunque sostanziale. A maggior ragione, le loro decisioni dovrebbero cercare di essere fondate sulla conoscenza degli esperti. Essa fornisce le basi per comprendere nel profondo un problema, per essere in grado di prendere decisioni ponderate, il cui merito tecnico è tenuto distinto dal merito politico e per saperle eventualmente correggere alla luce delle nuove evidenze. Il policymaker non può appoggiarsi alla realtà empirica nello stesso modo di uno scienziato, ma può utilizzare lo stesso approccio nell'analisi dell'esperienza e nel processo di verifica delle ipotesi adottate, con l'obiettivo di rispondere meglio alle richieste che i cittadini rivolgono ai governi. Oggi viviamo però in un mondo in cui la rilevanza della conoscenza per il policymaking è messa in discussione. Sta scemando infatti la fiducia nei fatti oggettivi, risultato della ricerca, riportati da fonti imparziali. Aumenta invece il peso delle opinioni soggettive, che paiono moltiplicarsi senza limiti, rimbalzando attraverso il globo come in una gigantesca eco. In questo contesto è più facile per il policymaker rispecchiare semplicemente quelli che gli reputa essere gli umori della pubblica opinione, sminuendo il valore della conoscenza, assumendo prospettive di breve respiro e obbedendo più all'istinto che alla ragione. Ma solitamente ciò non serve l'interesse pubblico. La competenza fondata sulla conoscenza è essenziale per capire la complessità, nel nostro caso, delle dinamiche economiche e sociali, per quantificare i rischi associati a determinate situazioni e per valutare di conseguenza l'effettiva necessità di una certa azione, per stimare i trade-off e gli effetti distributivi di un intervento, individuando coloro che ne beneficiano e coloro che ne vengono danneggiati. Tuttavia, per il policymaking basato sull'evidenza empirica, le conclusioni che si raggiungono devono essere aggiornate e riviste, quando necessario. Questo non significa che gli esperti, inclusi quelli della BCE, possano contare su una conoscenza perfetta. Le teorie non spiegano necessariamente tutto e le previsioni che ne discendono possono rivelarsi errate. La crisi ha mostrato che l'opinione prevalente nella professione sbagliava nel ritenere che i mercati finanziari potessero autoregolarsi. In effetti, lo ha spiegato Robert Schiller, non solo gli agenti operanti sul mercato, ma anche gli esperti possono cadere vittima delle epidemie narrative, con effetti negativi sull'economia. Contrastare questi fenomeni non significa rifiutare il valore della conoscenza. Gli esperti devono continuamente mettere in discussione le loro ipotesi, riesaminare le evidenze e sapere ascoltare la voce di chi non è d'accordo. Per i policymaker, i dissenzi sono come uno specchio con cui osservare le proprie azioni e costituiscono uno strumento con cui spezzare la forza delle narrative dominanti. Cioè essenziale per l'avanzamento della conoscenza e rappresenta il fondamento del progresso scientifico. Nulla può sostituire, per chi deve prendere decisioni, il ruolo di un'analisi rigorosa, accompagnata dall'esperienza. Questo spezzone mi sta particolarmente a cuore, perché in un video di qualche settimana fa abbiamo proprio analizzato quanto sia importante adottare il metodo scientifico e una analisi critica per poter prendere delle decisioni e analizzare correttamente la realtà che ci circonda. La seconda caratteristica per Draghi di una buona decisione è il coraggio. La conoscenza non è però tutto. Una volta stabilito nella misura del possibile come stanno i fatti, arriva il momento della decisione. Anche nel caso della politica economica, le azioni hanno sempre effetti collaterali e conseguenze indesiderate. Ci sono situazioni in cui anche le migliori analisi non danno quella certezza che rende una decisione facile. La tentazione di non decidere è frequente. È in questo momento che il policymaker deve far leva sul coraggio. Anche il non agire rappresenta infatti una decisione. Quando l'inazione compromette il mandato affidato al policymaker da legislatori, decidere di non agire significa fallire. In molti casi, i policymaker devono agire consapevoli che le conseguenze delle loro decisioni sono incerte, ma convinti che l'inazione porterebbe a conseguenze peggiori e al tradimento del loro mandato. Durante la crisi finanziaria del 2012 emergeva il rischio concreto che se non avessimo agito con decisione, l'area dell'euro sarebbe stata investita da una catastrofica destabilizzazione, con profondi effetti deflattivi. Nel luglio del 2012, gli spredi dei titoli pubblici a dieci anni rispetto all'equivalente titolo tedesco, erano pari rispettivamente a 500 punti base in Italia e a 600 in Spagna. Valori ancora più elevati si registravano per la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda. Il costo di protezione della deflazione era cresciuto da 184 punti base nel gennaio del 2012 a 276 in luglio. Il coraggio necessario per agire venne dalla convinzione che i rischi incombenti sarebbero stati assai maggiori se non avessimo fatto nulla. Saremmo in questo caso semplicemente venuti meno al nostro mandato e avremmo potenzialmente messo a rischio l'integrità della moneta che avevamo il compito di preservare. Ciò rendeva inevitabile la decisione presa, era l'unica possibile per un policymaker responsabile. La terza caratteristica per una buona decisione è l'umiltà. Essa discende dalla consapevolezza che il potere e le responsabilità del servitore pubblico non sono illimitati, ma derivano dal mandato conferito, che guida le sue decisioni e pone limiti alla sua azione. La natura politica del nostro mandato ha alcune implicazioni essenziali. Non abbiamo la libertà di decidere se dobbiamo fare ciò che è necessario fare per assolvere il nostro mandato. È il nostro dovere farlo. Rassegnarsi a venirvi meno non è un'opzione accettabile se abbiamo gli strumenti per adempere alle nostre responsabilità. Al contempo, il mandato implica l'obbligo permanente di agire rigorosamente nei limiti della legge. Nessun policymaker responsabile può mai concepire di agire ultra vires. Siamo sempre stati consapevoli delle entità e dei limiti dei nostri obblighi legali. Per questo non ci hanno preoccupato i ricorsi contro alcune nostre decisioni presentate alla Corte di Giustizia europea. Anzi, ne siamo stati lieti, perché ciò ha consentito alla più alta autorità giuridica europea di confermare la piena legittimità delle nostre azioni e di chiarire quali ne fossero i limiti. La Corte non soltanto affermò che gli acquisti di attività sono uno strumento legittimo di politica monetaria nell'area dell'euro, ma rilevò anche l'ampia discrezionalità della BCE nel ricorrere a tutti i suoi strumenti secondo necessità e in maniera proporzionata per conseguire il suo obiettivo. Ho descritto la nostra posizione con l'imperativo di fare tutto ciò che dobbiamo entro il nostro mandato e per adempere al nostro mandato. Ma il riconoscimento dell'estensione dei limiti del nostro mandato comporta l'obbligo di parlare chiaramente quando necessario e di spiegare le opzioni disponibili. Oggi ciò è necessario. E quindi, secondo Mario Draghi, per adempiere ad una buona decisione bisogna seguire queste tre caratteristiche. E ovviamente un policymaker giornalmente deve adempiere a delle buone decisioni. E quindi tutto questo rimando secondo me è molto interessante. Adesso vediamo cosa ne pensa Mario Draghi della sovranità di uno Stato. Sovranità in un mondo interconnesso Nel complesso i cittadini europei apprezzano i benefici dell'integrazione economica che l'Unione Europea ha prodotto e da anni considerano come il suo maggior successo la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, cioè il mercato unico. Inoltre il 75% dei cittadini dell'area dell'euro è a favore dell'euro e dell'Unione Monetaria e il 71% degli europei è a favore della politica commerciale comune. Allo stesso tempo però diminuisce dal 57% nel 2007 al 42% di oggi la considerazione che i cittadini europei hanno delle istituzioni dell'Unione. Peraltro questo declino è parte di un fenomeno più generale che vede diminuire la fiducia in tutte le istituzioni pubbliche. Quelle verso i governi e i parlamenti nazionali oggi si attesta appena al 35%. Questa discresia nei sondaggi può essere spiegata con la percezione che ci sia un trade-off tra l'essere membri dell'Unione Europea e la sovranità dei singoli Stati. Secondo questo modo di pensare, per riapproparsi della sovranità nazionale sarebbe necessario indebolire le strutture politiche dell'Unione Europea. Ritengo sbagliata questa convinzione perché confonde l'indipendenza con la sovranità. La vera sovranità infatti si riflette non nel potere di fare le leggi, come vuole una definizione giuridica di essa, ma nel migliore controllo degli eventi in maniera da rispondere ai bisogni fondamentali dei cittadini, come la pace, la sicurezza e il pubblico bene del popolo, secondo la definizione che John Locke ne dette nel 1690. La possibilità di agire in maniera indipendente non garantisce questo controllo. In altre parole, l'indipendenza non garantisce la sovranità. Si prende all'esempio, estremo ma efficace, di quei paesi che sono totalmente al di fuori dell'economia globale. Essi sono indipendenti, ma certamente non sovrani in un senso pieno della parola, dovendo ad esempio spesso contare sull'aiuto alimentare che proviene dall'esterno per nutrire i propri cittadini. La globalizzazione aumenta la vulnerabilità dei singoli paesi in molte direzioni. Gli espone maggiormente a movimenti finanziari internazionali, a possibili politiche commerciali aggressive da parte di altri stati e, aumentando la concorrenza, rende più difficile il coordinamento tra paesi nello stabilire regole e standard necessari per il conseguimento al proprio interno degli obiettivi di carattere sociale. Il controllo sulle condizioni economiche interne quindi ne risulta indebolito. In un mondo globalizzato, tutti i paesi per essere sovrani devono cooperare, e ciò è ancora più necessario per i paesi appartenenti all'Unione Europea. La cooperazione, proteggendo gli stati nazionali dalle pressioni esterne, rende più efficaci le sue politiche interne. Nella struttura dell'Unione Europea, le regole comuni vengono definite nel Consiglio e nel Parlamento Europeo. La Commissione provveda che siano rispettate. La Corte di Giustizia Europea assicura la protezione in giudizio in caso siano violate. Per quel che riguarda i paesi dell'area dell'euro, la vigilanza bancaria europea e l'autorità che presiede la risoluzione delle banche contribuiscono a contenere gli effetti dell'instabilità finanziaria. In questo mondo così interconnesso, cercare l'indipendenza da queste istituzioni pone i paesi di fronte a scelte complesse. O, per poter continuare ad avere accesso al mercato unico, devono accettare passivamente regole scritte da altri, perdendo il controllo su decisioni che toccano l'interesse dei propri cittadini, o devono separarsi dai partner commerciali più importanti, perdendo controllo sul benessere dei loro cittadini. Si stima che nel caso di una possibile reintroduzione delle barriere commerciali in Europa, il PIL della Germania sarebbe più basso circa dell'8% e quello dell'Italia del 7%. L'argomento per cui la cooperazione accresce la sovranità vale anche per le relazioni tra l'Unione Europea e il resto del mondo. Ben pochi paesi europei hanno una dimensione tale da poter resistere agli spillover provenienti dalle altre grandi aree economiche nel mondo, o una voce forte abbastanza ad essere ascoltata nei negoziati commerciali mondiali. Ma, insieme nell'Unione Europea, la loro forza è ben più grande. L'Unione Europea produce il 16,5% del prodotto mondiale, secondo solo alla Cina, il che dà a tutti i paesi europei un mercato interno di grandi dimensioni, in cui riparare in caso di crisi commerciali nel resto del mondo. Il commercio dell'Unione Europea vale infatti il 15% degli scambi mondiali, contro l'11% negli USA, e ciò contribuisce ad aumentare il peso negoziale dell'Unione Europea nei negoziati sul commercio con gli altri paesi. Inoltre, il fatto che l'euro sia la seconda moneta più utilizzata negli scambi internazionali contribuisce a isolare l'economia dell'area dell'euro dalla volatilità del tasso di cambio. Infatti, poiché circa il 50% delle importazioni dei paesi al di fuori dell'euro è oggi fatturato in euro, la trasmissione della variazione del cambio ai prezzi delle importazioni è oggi minore. La politica monetaria può quindi concentrarsi sugli sviluppi interni dell'area dell'euro senza dover reagire ripetutamente agli shock ad esse esterni. Infatti, poiché circa il 50% delle importazioni dai paesi al di fuori dell'euro è oggi fatturato in euro, la trasmissione delle variazioni del cambio ai prezzi delle importazioni è oggi minore. La politica monetaria può quindi concentrarsi sugli sviluppi interni all'area dell'euro senza dover reagire ripetutamente agli shock ad esse esterni. Per tutte queste ragioni, forse al di fuori dell'Unione Europea può sì condurre a maggiore indipendenza nelle politiche economiche, ma non necessariamente a una maggiore sovranità. Lo stesso argomento vale per l'appartenenza alla moneta unica. Ragazzi, oggi è la giornata di Mario Draghi e quindi ho voluto lasciargli parola, non intervenendo nei suoi discorsi, ma semplicemente cercando di astrarre dai suoi interventi le parti che personalmente pensavo più interessanti. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video che molto probabilmente sarà ancora una volta a tema Mario Draghi. Alla prossima! Ciao!